In Italia non c'è niente di più stabile di ciò che doveva essere transitorio. Questo principio si applica anche al mercato del gas e dell'energia elettrica che sulla base della legge sulla concorrenza del 2017 dovevano finalmente a un certo punto arrivare a un regime di concorrenza piena come succede per esempio con le bollette telefoniche e invece non ci si riesce. C'è questo regime cosiddetto di maggior tutela che doveva essere appunto transitorio e invece sono sei anni che è lì e non si riesce a scardinarlo. Ora sembrava che si fosse arrivati proprio ormai inevitabilmente a stabilire appunto una concorrenza come accade per le nostre bollette telefoniche eppure c'è un pezzo della politica che punta i piedi perché proprio non ce la fanno a capire che quando c'è concorrenza per i clienti è sempre una buona notizia. Ed è proprio di questa vicenda piuttosto intricata che voglio parlarvi oggi che il 30 novembre 2023 io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan. Una storia al giorno, dal lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Partiamo da un dato di fatto. La concorrenza è una cosa positiva. Quando ci sono più operatori economici che competono sul mercato questa non può che essere una buona notizia per i clienti. Innanzitutto perché possono esercitare una scelta, possono decidere cosa acquistare in un'offerta più ampia. In secondo luogo perché chiaramente quegli operatori economici sono costretti a rendere i propri prodotti e servizi più attrattivi o perché meno costosi e quindi agire sulla leva del prezzo, ridurre i propri margini di guadagno per ottenere più clienti oppure anche perché dovranno immettere sul mercato prodotti più attrattivi, più avanzati, investire in ricerca per offrire qualcosa che sia una novità al cliente che lo intrighi, che lo interessi. E basti pensare a quello che è successo in Italia con le bollette telefoniche. Negli ultimi decenni i prezzi sono precipitati al punto che parlando con le società di telefonia ci si sente dire in Italia che oggi i margini sono così ristretti che per loro investire in ricerca appunto in sviluppo in un settore ad altissima tecnologia, ad altissimo avanzamento tecnologico oggi è un problema proprio perché le società telefoniche lamentano di guadagnare veramente pochissimo dovendo offrire dei prezzi ridotti all'osso e quindi il dato di fatto, la prima considerazione da fare è che la concorrenza fa bene ai clienti. La seconda considerazione è che in Italia però è difficilissimo creare un mercato aperto perché per qualche motivo siamo così diffidenti rispetto alla concorrenza. Basti vedere che cosa succede con i balneari, la famosa direttiva Bolkenstein che dice cosa? Che quando c'è un bene limitato lo Stato deve metterlo a gara per affidarlo a chi darà le condizioni migliori, un po' per massimizzare i proventi per la collettività. Quindi se vuoi prendere una spiaggia in gestione e quella spiaggia è bene pubblico e io voglio guadagnare per la collettività il più possibile. E in secondo luogo perché nella scelta tra le varie offerte farò prevalere quella che è anche più innovativa, quella che mi dà delle condizioni migliori, più interessanti anche dal punto di vista del contenuto, della gestione di quel tratto di spiaggia. Eppure questo in Italia non si riesce a fare, i balneari non è che siano tantissimi ma riescono a tenere in scacco la politica. Ma poi basta pensare a quello che succede con i tassisti, ne abbiamo parlato anche in questo podcast molte volte. Purtroppo riuscire ad aprire alla concorrenza è molto complicato. Ed è complicato anche perché la politica è diffidente essa stessa, tende a prendere le parti, diciamo così, dei monopolisti. Guardiamo che cosa sta succedendo in questi giorni con la vicenda delle bollette, del gas e della luce. Oggi praticamente tutti i partiti, PD, 5 Stelle, la Lega, si battono contro il libero mercato, che è un obbligo che noi abbiamo preso anche nei confronti dell'Unione Europea. Abbiamo preso un pezzo di PNRR assicurando che saremmo passati al libero mercato, ma oggi il povero Fitto, che tra l'altro è il rappresentante di Fratelli d'Italia, quindi di un partito certamente non favorevole al mercato, deve difendere appunto la concorrenza sul mercato dell'energia, del gas. È una cosa paradossale. Ovviamente noi siamo assolutamente per la liberalizzazione del mercato e siamo per il mercato perché è più vantaggioso, come dicevo all'inizio. Basti pensare che i consumatori che non sono passati al libero mercato ma sono rimasti in questo regime cosiddetto di maggior tutela, che secondo me è una trappola linguistica, già parlare di maggior tutela ti fa dire ah io voglio restare maggiormente tutelato, non mi voglio muovere, ma è una trappola perché durante la crisi del gas, quando i prezzi sono saliti tantissimo, i consumatori che erano nella maggior tutela hanno pagato molto di più perché com'è il meccanismo? Il meccanismo è che nella maggior tutela c'è un acquirente, che sostanzialmente è il MEF, che acquista il gas o l'energia elettrica e la passa ai consumatori applicando il prezzo che ha pagato negli ultimi tre mesi e quindi se c'è stato un picco, quel picco viene transitato, viene trasferito immediatamente al consumatore. Io devo fare uno dei miei numerosi coming out, non avevo mai pensato, non avevo avuto il tempo di passare al libero mercato e quando c'è stata la crisi dei prezzi del gas ho pagato delle bollette incredibili, cosa che mi ha spinto poi a passare al libero mercato, cosa che tra l'altro hanno fatto i due terzi dei consumatori italiani perché hanno capito che era più conveniente eppure appunto oggi che cosa si dice? No, questa è la bolletta Meloni, la stangata, bisogna conservare la maggior tutela, tra l'altro stiamo entrando anche in contrasto con l'Unione Europea che dice ma io ti ho pagato una parte del PNRR perché tu hai detto che avevi liberalizzato, che cosa succede? Non liberalizzi più. Ora io credo che sia appunto paradossale appunto che ci sia un pezzo così grosso della politica poi con il PD e anche lo stesso Bersani che è il padre delle liberalizzazioni della fine degli anni 90 e ora si scaglia contro una norma presa poi anche dal governo Draghi e quindi il governo del quale il PD era parte, è veramente una cosa del tutto incomprensibile. Certo, se c'è un limite e che ancora oggi è molto complicato orientarsi anche tra le varie offerte perché se uno guarda una bolletta è molto complicata da leggere quindi anche per il consumatore riuscire a comprendere esattamente se un'offerta sia vantaggiosa o meno è molto complicato e forse ecco più che bloccare il passaggio appunto a un regime di apertura, di concorrenza e di competizione tra gli operatori che offrono questi contratti probabilmente quello che la politica dovrebbe fare è di costringerli a rendere le offerte intelligibili, comprensibili in modo tale che il consumatore possa effettivamente fare una scelta consapevole. Però che la politica appunto entri in questa dinamica demonizzando il mercato, rendendo come dire diffidente il consumatore e non incoraggiandolo invece a utilizzare il suo potere perché il consumatore quando sta sul mercato ha un potere di scelta che è determinante e che potrebbe se utilizzato in modo intelligente tornare come dicevo sin dall'inizio di questo episodio tornare a suo vantaggio però questo io credo che sia un meccanismo interessante anche da svelare perché la dice lunga poi su molte logiche della nostra politica e su quanto un certo tipo di demagogia prevalga io devo dire, lo dico con grande dispiacere, mi fa specie soprattutto per il Partito Democratico che si lancia poi anche con questa segreteria Schlein su posizioni che sono effettivamente demagogiche, populiste io non riesco a definirle in nessun altro modo quindi speriamo che si proceda e speriamo anche che si dica all'opinione pubblica le cose come stanno perché alla fine questo meccanismo io credo che penalizzi soprattutto le persone io mi fermo qui ricordatevi di abbonarvi al podcast per avere una notifica appena siamo online ogni mattina e l'appuntamento è per domani avete ascoltato la versione di Ivan un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo